La Malasetta, professor Benigno, si parla di questo libro, si parla di mafia, un libro che vuole insegnare e dire cosa in particolare? Non si parla solo di mafia, si parla di mafia e di camorra. Si parla della nascita dello Stato italiano e insieme della nascita della criminalità organizzata di questo Paese. Sono passati tanti anni e il libro prova a spiegare come sono nate e in che contesto si sono formate. In quegli stessi anni in cui a Napoli e a Palermo si discuteva di camorra e di mafia, in Abruzzo si discuteva di brigantaggio. Il libro non ne parla ma è un fenomeno consustanziale, potrei dire, a quelli che ho esaminato. Titolo La Malasetta perché? Perché a quell'epoca, stiamo parlando del primo ventennio all'indomani dell'unità, l'associazione politica era stata lungamente sperimentata in forma settaria, la massoneria, la carboneria e anche le organizzazioni criminali avevano questo stesso modello, assumevano lo stesso modello. Secondo lei cosa si deve fare di più probabilmente per combattere questi fenomeni criminosi? Evitare discorsi onnicomprensivi che mettono nel nostro sacco cose che sono distinte tra loro, imparare a usare le parole in maniera precisa. Queste parole così generiche, mafia, camorra, servono a delineare un nemico collettivo ma spiegano poco. È uno straordinario modernista dell'Università di Teramo che insegna e fa ricerca nell'Università di Teramo e soprattutto ci offre la possibilità anche con la malasetta di rileggere la storia in modo direi estremamente completo e complesso. Ci consente di cogliere la complessità della storia e ci consente, rileggendo la storia, di poter comprendere bene anche i problemi del quotidiano.